Tra l'altro ragazzi ho trovato un gioco Ho trovato un gioco ragazzi che mi ha consigliato la rana Dovete stare veramente molto attenti Ho trovato un gioco che mi ha consigliato la rana che è una figata No non farà schifo è divertente perché è banale Fidatevi di me ragazzi Allora non so bene come possa funzionare questo gioco Però in palio metterò subito una sub Il gioco si chiama così Il gioco si chiama Draw We E praticamente questo gioco funziona così Praticamente ci sono delle parole Io devo disegnare e la chat deve indovinare la parola che disegno Ok? Ok iniziamo Ok bisogna subito Solo il più veloce Marco 22 La indovina subito Rasoio Allora queste qui sono le parole del gioco Non sono le mie parole già fatte What the fuck is that? Eeeh si come cazzo lo faccio sto coso? Meco Meco 06 Ma come cazzo l'ha presa? Ok qui bisogna essere rapidi No Canna Ti porta subito a casa Questa nuova parola Freno Ma pareva un sottomarino Ma che cazzo vuoi? Ma cosa sto scammando? Qui sono la mente più arguti Qui sono la mente più veloci I più rapidi Quelli con la mente più Flessibile Riescono a captare queste Parole nascoste nei miei disegni Prossima parola Questa è facile Questa è facile ragazzi Niki 119 Subito Veloce Lui Un esperto di botanica Un avido col divatore Attenzione Questa potrebbe essere più Potrebbe essere più complicata Come ha fatto? Come cazzo ha fatto? Marco Bona Ma è un mostro Perché era 5 di 5? Ah non ho messo 10 Ha vinto lui ragazzi Niki 19 Ecco A peccora Niki 30 secondi 15 parole Generale Sei pronti? Siete pronti? Iniziamo Ok Allora questa parola Potrebbe essere difficile No no Merda Eh questa può essere difficile Ragazzi Questo è tipo un camice Qualcuno ci può arrivare E c'è arrivato proprio lui Akexo Incredibile La indovina Scienza Attenzione Attenzione Questa potrebbe essere complicata Pachi 23 La chioppa subito Frusta Se la chioppa subito Pachi Veloce Cosa sono questi numeri Che mettete Ogni tanto Perché scrivete 4 5 1 8 Che cos'è quella roba? I voti I voti al disegno 1 No vabbè ragazzi Voi c'erete le pannocchie Nel cervello Adesso vi faccio subito Questo Oddio aspettate Qui ve la smurf Qui ve la smurf Subito Sta cucendo Tipo una maglietta Questo Vabbè ragazzi Ma come cazzo Lo facevo Sto coso E Uno di valutazione Ma come cazzo Vi permettete Questo è facile Questo è facile Gian La prende subito Qui la smurfo Subito Qui sta tutto Sgranocchiando Dai ragazzi Era facile Raga Questa è facile Boom Marco Bona Lo prende subito Zoccolo No Questo Oddio Aspetta Bruno Ci arriva Con l'intelletto Con la sua Argutezza Con la sua astuzia Franco Bollo È facile Ragazzi Frattiero La porta a casa Vassoio Ok vedi Questa potrebbe essere Più complicata Ragazzi Eh Questa Come cazzo La rappresento Così Come cazzo La faccio Bruno Città Allora Questo è facile Nu sbari Velocissimo Nu sbari Velocissimo Si porta a casa Questa mappa Non so se qualcuno Ci potrà mai arrivare Su sta cosa Riccardo Dai Raga Questo è facile Questo è facile Aspetta Mi vuole bene Cree Prende subito La parola Allarme Questo è facile Ragazzi Porchetta Pelosa Non si sa come Velocissimo Vasca Ti ve subito Vasca Porchetta Pelosa Questa è facile Raga Questo è facile Pippo Contorto Di nuovo Pippo Contorto Ma mi pare Di aver si indovinato Uno anche prima Prende subito Sta Sta parola Bocca Che cazzo Eh Questo si può fare Solamente così Eh Non so come farlo Ragazzi Cioè Non Venomaz La prende Abbiamo la classifica Finale Totale Tabellone Pippo Contorto A me Grazie Allora Hai vinto Il sub Bruno Bruno Vince Il sub Welcome My friend Welcome Welcome To be To be To be To be